I passaggi sono questi, abbiamo intrapreso una strada col Presidente della Regione dove noi dobbiamo fare una ricerca parallela a quelle che vanno fatte, con biologi riconosciuti dallo Stato italiano, per poter dimostrare la diversità quella che c'è dal nostro pesce al pesce di altri mari, ma più di tutto la cosa che dobbiamo dimostrare è proprio per la tipicità dei fondali fangosi e sabbiosi che non apportiamo nessun danno nemmeno ai fondali. Già oggi il Direttore Generale della Pesca sta incontrando il Commissario Europeo della Pesca che sta a Bruxelles e giovedì incontrerà noi, questi sono i passaggi quelli fino ad oggi e poi giovedì 24 il Ministro dopo che si consulterà con il Direttore Generale della Pesca, quale sarà la sua direttiva, incontrerà le associazioni di categoria. La domenica si esce il lavoro, aspettando poi quello che sarà. La domenica comunque.